Signora, buongiorno, siamo ai Carabinieri di Ivrea. È successa una tragedia. Suo figlio ha investito un anziano di 85 anni. L'uomo è in pericolo di vita. Deve pagare 8.200 euro in contanti, altrimenti il suo figlio andrà in carcere. La mattina del 26 ottobre un'anziana signora viene contattata da dei sedicenti Carabinieri di Ivrea. Una telefonata agghiacciante di quella che non vorreste mai ricevere. La donna non capisce, si agita, tenta di avere maggiori informazioni ma il panico prende sopravvento. Esegue tutte le istruzioni, raccoglie 8.200 euro in contanti che custodisce in casa, li mette in una busta e la chiude con l'aspiratrice. Scende in strada, dove ad attentare c'è un certo Andrea, un altro finto Carabiniere. A lui dovrà consegnare il malloppo. Il piano è quasi riuscito, quasi, perché all'improvviso si è materializzato un ostacolo imprevisto. La nipote, che abita al piano di sopra e che in quel momento incrocia la vittima in cortile. Nonna, dove vai? chiede la donna. La nonna racconta tutto, a fretta, deve aiutare suo figlio. La nipote però non ci casca, la invita a tornare a casa, la tranquillizza, le dice ci penso io. Immediatamente chiama il papà, torna a casa, la nonna è stata truffata. L'uomo non solo fa ripetere due volte, rientra e contemporaneamente anche l'uzio, figlio della parte offesa e ignaro di tutto, fa ritorno. Mentre tutti sono in cortile a discutere di quanto è accaduto, dal muretto del viale si scorge un ragazzo, sempre a controllare la situazione. Tale comportamento non sfugge ai presenti, che insospettiti li corrono incontro e lo bloccano in attesa dell'arrivo dei carabinieri. La scena è seguita a distanza da un altro soggetto, che hanno usato il pericolo fugge a bordo di un'attivettura. I carabinieri di San Giorgio Canavese, unitamente ai colleghi del NOR, sezione operativa di Ivrea, attraverso le testimonianze e le analisi tecniche, sono inoltre riusciti a risalire al complice, un 41enne italiano. Il giovane di 20 anni è stato arrestato perché è gravemente iniziato di tentata truffa aggravata e accompagnato presso la casa circondariale di Ivrea, mentre il complice è stato denunciato per il medesimo reato.